Ben ritrovati negli studi di Calabria News 24 con il nostro mai consueto appuntamento con le interviste al nostro criminologo Sergio Caruso, benvenuto dottor Caruso, nonché direttore scientifico del primo master di criminologia scientifica in Calabria. Oggi affrontiamo una problematica particolare, una questione, un fenomeno che si sta verificando sempre e più spesso e sul quale sono accesi quasi tutti i riflettori della stampa anche nazionale, quello del bullismo, delle aggressioni, degli insulti verso i professori, ragazzi che in qualche modo manifestano dei loro disagi all'interno del mondo non solo sociale, ma soprattutto della classe. Che cosa sta avvenendo dottor Caruso nelle nostre scuole? Sta avvenendo in una semplice parola il fallimento sociale, fallimento sociale ed educativo e pedagogico di due grandi istituzioni, di due grandi agenzie strutturanti della personalità e anche agenzie strutturanti dei sistemi educativi che sono scuola e famiglia, che purtroppo, ed è un dato di fatto, in maniera inesorabile stanno crollando come istituzione, stanno crollando come insieme, stanno crollando come insieme e raggruppamento di valori che da sempre hanno aiutato l'individuo nel percorso evolutivo. Non ci vuole l'esperto per vedere cosa succede nelle scuole italiane. In un famoso sito di YouTube, una famosa pagina di YouTube, Scuola Zo, mi sembra che si chiami, da molti anni si vedono questi gesti dimostrativi, queste violenze che più che gesto dimostrativo è fatti ricollegabili al bullismo, a tendenze che sono un'altra cosa. Io richiamerei degli episodi di violenza scolastica. Diciamo che anche la stampa si è trovata un po' in difficoltà in questo periodo a definire il fenomeno. Si chiama addirittura bullismo all'inverso e quello di Lucca è l'ultimo caso, ma ce ne sono stati tantissimi. Poi diciamo che sia la stampa che chi si occupa di queste cose, come me in questo caso, visto che sono anche esperto di pedagogia e servizi psicoeducativi, ci troviamo in seria difficoltà, Fabrizia. Ci troviamo in seria difficoltà perché non abbiamo precedenti della letteratura scientifica, cioè casi del genere non ne abbiamo studiati perché fondamentalmente da qui a vent'anni ne sono successi pochissimo. Abbiamo avuto una grossa escalation in questi anni in cui succede qualcosa, giusto per virgolettare un approccio teorico simile ai fattori del mobbing, in cui nei gruppi di lavoro non viene preso di mira il datore di lavoro, ma viene preso di mira la persona che sta al vertice dell'organizzazione, che è anche un vatto raro perché di solito è spesso il contrario, una sorta di mobbing trasversale. No, in questo caso di bullismo trasversale. Io mi limiterei a sottolineare, credo che purtroppo se non si intensificano programmi e progetti di prevenzione, credo che apriremo delle nuove pagine di letteratura scientifica in cui se si parlava di violenza di genere, si parla ancora di violenza di genere, si parla di violenza sociale, credo che parleremo sempre più spesso di violenza scolastica come nuova nomenclatura. A molti è sembrato strano come mai dall'altra parte, quindi l'insegnante oppure il dirigente rimanevano quasi impassibili, ma anche lì c'è un modo di fare che comunque va anche calcolato, perché la reazione da parte dell'insegnante sarebbe sbagliata da tanti punti di vista, sia psicologica che poi legalmente, diciamolo. Io credo che fare l'insegnante in questo momento storico così difficile è estremamente complesso, cui devono avere una formazione ben specifica, devono essere inseriti in un'equip di coordinamento in cui ci sia inevitabilmente due figure, la figura dello psicologo e del pedagogista esperto in dinamiche scolastiche. Perché questo? Perché ora non ci dobbiamo confrontare più con, o non solo, con ragazzi che vanno male a scuola, che non arrivano al 6, che non fanno i compiti di matematica, ma ci dobbiamo confrontare con il disagio, che è sempre più emergente. È quello che è successo in quel video che abbiamo visto tutti, e vi posso raccontare in maniera indiretta delle esperienze scolastiche che ho avuto nei consultori, in un'equip psicoeducativa, nelle consulenze che ho fatte alle scuole, che purtroppo è un'emergenza allargata da nord a sud, in cui ci sono delle sofferenze, dei disagi e anche dei disturbi, perché ritorniamo sempre al solito discorso, cioè un ragazzo che fa un gesto dimostrativo del genere, cioè non è un mood, non è un modo di fare, è sintomatico di un disagio che è una condotta sintomo, è questa violenza, questa azione dimostrativa, significa anche ascoltatemi, aiutatemi. Quindi dobbiamo vedere in questi contesti, perché ora siamo in un momento talmente difficile, Fabrizia, che bisogna distoglierci dai contesti teorici e entrare nel pratico, dobbiamo capire che cosa fare e se ci sono questi aspetti così gravi, vuol dire che molti ragazzi non vengono ascoltati e nessuno previene quei segnali d'allarme che poi ci portano a questi tristissimi casi. L'ascolto è sicuramente uno dei primi elementi fondamentali nella costruzione di una personalità, ma c'è anche qualcos'altro, gli esempi, qualcuno diceva che i giovani non hanno bisogno di sermoni, ma di esempi da seguire, possiamo anche inserirlo in questo contesto dicendo che alla fine forse gli manca proprio questo alla nuova generazione, degli esempi anche all'interno di un contesto familiare, quindi padre, madre, più certi comunque l'assenza della figura anche genitoriale ha influito in questi atteggiamenti. Ritorniamo all'altro aspetto che è la famiglia. Io spesso mi trovo in tantissime difficoltà perché sono un essere umano e so che ho strumenti che possono fallire e so soprattutto che nessuno di noi è perfetto, ma dove mi trovo estremamente in difficoltà è quando mi occupo di minori a rischio e inevitabilmente vedi le famiglie. Davvero capisci la disgregazione educativa in cui attenzione, questo lo voglio dire a chi ci sta vedendo, lo voglio dire in maniera molto attenta, che non è un'emergenza economica e nemmeno socioculturale, è un'emergenza valoriale, emotiva e affettiva in cui il ruolo del papà che è fondamentale viene sempre sminuito e ci sono molti soggetti che tra parentesi dovrebbero rivedere la propria genitorialità dal punto di vista dell'affettività e dell'accudimento. La mamma è fondamentale perché se il padre rappresenta le relazioni sociali, la sicurezza e gli stili educativi, la mamma rappresenta l'affettività e lo dicono pagine e pagine della letteratura, però purtroppo si crea un fenomeno nelle famiglie che si chiama patchwork, che è un fenomeno sociale ed è l'isolamento interno. Esempio classico, una famiglia, quattro persone sedute a un tavolo, che parlano con soggetti sui social a chilometri di distanza ma non parlano tra di loro. Questi sono i fattori prodromici di personalità a rischio che compiano quello che vediamo, perché se nessuno li ascolta questi ragazzi, se non hanno punti di riferimento, si faranno ascoltare in ogni modo che ritengono opportuno. E qual è il modo più atavico per farci ascoltare l'aggressività? Quindi in conclusione il suo consiglio brevemente? Il mio consiglio breve, diretto e chirurgico è quello di ascoltare questi ragazzi, di prevenire e soprattutto chi compie un gesto del genere deve essere messo in condizioni di non farlo più, farli capire con i mezzi della giustizia che è un reato, non è un gioco, quindi devono anche essere puniti a livello giuridico, ma insieme alla punizione c'è la rieducazione, perché non dobbiamo assolutamente entrare in quei contesti inquisitori in cui peggioreremo soltanto le cose a dismisura. Quindi dobbiamo capire l'importanza della rieducazione e soprattutto che tutti questi atteggiamenti non sono giochi, non sono cult, e voglio dire ai ragazzi che ci ascolteranno, non pensate assolutamente di farla franca tra parentesi, perché sono azioni che con il tempo della legge andranno sicuramente visti e puniti. Grazie, grazie dottor Caruso, diretto come l'ha detto lei è chirurgico, grazie per essere stati con noi, al prossimo appuntamento.